Seconda sconfitta consecutiva per il Catania dopo il crollo casalingo contro il Melfi, che costringe la formazione rossa-azzurra fuori dalla zona playoff. È sempre più in crisi, sempre più dentro questo tunnel da cui non si riesce a trovare via di uscita. Contro il Lecce, nonostante la sconfitta, il migliore in campo è, ancora una volta, Matteo Pisseri, primo segno più della nostra rubrica. A lui il Catania quest'anno deve probabilmente una statua, anche contro i Pugliesi, l'ex Monopoli è decisivo almeno in quattro occasioni e, grazie a lui, il passivo tra le due formazioni è di una sola rete. Segno più anche per Andrea Mazzarani, è ancora lontano da quello conosciuto alle sue prime uscite con la casacca rossa-azzurra, sia chiaro, ma contro i giallorossi il numero 32 Etneo è stato l'unico ad aver cercato la porta in più di un'occasione, il più pericoloso dei suoi, sebbene di pericolo non si possa parlare, dato che l'estremo difensore avversario non è mai stato davvero chiamato in causa. Segno meno per Rosario Bucolo, Pulvirenti decide di schierarlo dal primo minuto, ma il centrocampista catanese questa volta delude le aspettative. Perde in più occasioni la palla, regalandola agli avversari e, in particolar modo, perde quella che poi risulterà essere decisiva per l'esito dell'incontro, quella, poi messa dentro la rete da Costa Ferreira. Infine, segno meno anche per Giuseppe Fornito, mandato in campo a gara in corso per sostituire proprio il deludente Bucolo, ma alla fine il film rimane il medesimo. Anche l'ex Messina non riesce a dare quel quid in più alla squadra e, anzi, se possibile, fa anche peggio del compagno sostituito. Di fatto, non entra mai in partita.